Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui dai tavoli del Main Event World Series 2010 da Londra. Come vedete la sala è gremita, abbiamo ancora 147 giocatori in gara che attualmente stanno giocando con un livello di bui pari a 500-1000 con l'ante che è stato introdotto a 100. E' uscito anche il Price Pool che vede un monte premi di 3.460.000 sterline quindi un torneo veramente molto molto ricco. Abbiamo ancora tutti e tre gli italiani in gara anche se tutti piuttosto corti, forse il più adagiato è Super Baldass, Fabrizio Baldassari che ha circa 40.000 di stack. Sceso a 25.000 anche Candio che come avrete sicuramente letto sul blog questo pomeriggio ha fatto un po' le montagne russe e appunto ha toccato quota 90.000 per poi scendere di nuovo a 25.000. Stessa dimensione più o meno dello stack attorno ai 20.000 per Galb che però invece si è contraddistinto per una stabilità abbastanza marcata per quanto riguarda appunto la dimensione dello stack. Come vedete qui davanti a me Filaevi al tavolo, moltissimi i big presenti, radici dei due, dei uno quindi veramente un field molto interessante e molto complicato per i nostri tre italiani. A cui facciamo sicuramente l'in bocca al lupo, fate anche voi il tifo con noi sul forum e ci vediamo al prossimo aggiornamento video. Ciao a tutti ragazzi, ciao! Ciao a tutti!